Ben trovati all'appuntamento quotidiano con i giornali in edicola, la rassegna stampa con i titoli principali dei quotidiani di oggi 30 agosto 2021. In primo piano i corridoi umanitari, la crisi in Afghanistan, la crisi umanitaria e la crisi internazionale. Richiamo all'Unione Europea da parte del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, poi parleremo di Covid, Green Pass obbligatorio oppure no e il rientro in sicurezza a scuola. E per la cronaca l'incendio a Milano con l'incendio del grattacielo dei cosiddetti VIP. Apriamo con i titoli del Corriere della Sera. Come vedete l'apertura da spazio a Kabul nel caos. L'America attacca ancora Mattarella, politici dell'Unione Europea sconcertanti sui profughi. Presi due kamikaze, la CNN uccisi anche sei bambini. Nuovo raid degli americani a Kabul colpito con un drone, un'auto con i militanti ISIS. La CNN tra le vittime sei bimbi. Il Presidente Mattarella sui profughi, politici europei sconcertanti. Europa serve una forza di intervento e di sicurezza. A parlare l'alto rappresentante Borrell adesso per la difesa tocca all'Europa. Ecco l'appello di Josef Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri. È necessaria, dice al Corriere, una forza di primo intervento degli stati europei di 5.000 militari per tutelare i nostri interessi. L'editoriale affidato ad Angelo Panebianco, i nemici non visti. L'edificio occidentale ha subito una violenta scorsa. Non crollerà, ma ciò che è accaduto a Kabul sta spingendo le classi dirigenti europee a ripensare la collocazione strategica dei propri paesi. Si ricomincia a parlare della necessità di una difesa europea, non per sostituire la Nato, ma per disporre di mezzi che consentano all'Europa, se necessario, di provvedere da sola alla propria sicurezza. È la conseguenza di una presa d'atto. Le priorità degli Stati Uniti sono cambiate. L'America sta dismettendo i panni di paesi guida del mondo occidentale, quindi anche quelli di Lord, protettore dell'Europa, un ruolo che ha svolto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Ci sono però ostacoli potenti da rimuovere. Abitudini radicate da abbandonare. Sono ostacoli di natura politica, psicologica, culturale. C'è in primo luogo la forza dell'abitudine. E poi al centro della pagina del Corriere, paura nel grattacielo, era come una torcia. La fotonotizia è dedicata appunto all'incendio del grattacielo di Milano. Ci abitavano 60 famiglie, anche Mahmood. In fiamme un grattacielo di Milano, il palazzo di via Antonini, zona sud. 18 piani in cui vivevano 60 famiglie. Verso le 17.30 si è acceso come una torcia. L'edificio, noto come Torre dei Moro, alto 60 metri, è stato avvolto dal fuoco. L'involucro della facciata, divorato in poco tempo. In salvo chi era in casa. Mistero sulle cause. Morgan, io in casa, all'improvviso un caldo forte. E invece di spalla, aggressione e minaccia, il nuovo volto dei Novax contro il Green Pass. Assalto ai gazebo del Movimento 5 Stelle a Milano. Il RAI dal termine della manifestazione dei Novax è di un corteo non autorizzato. Aggredito a Roma, una giornalista della RAI. La protesta contro il Green Pass sfocia nella violenza. E poi la cronaca. Il pugile, ragazzo ammazzato per un litigio a Caserta, era una promessa. Una promessa della box. Gennaro Leone, 18 anni, ucciso da una coltellata a Caserta nel cuore della Movida. Per questo è stato fermato un 19enne. E andiamo avanti invece con i titoli della Repubblica. Londra e Parigi trattano per i corridoi umanitari. In primo piano dunque il dramma dell'Afghanistan, negoziati con Talebani e ONU per far partire i collaboratori. Mobilitazione per gli allievi della Sapienza bloccati a Kabul. Ricompare il leader dei fondamentalisti e prepara il governo di transizione. Ma nella capitale manca anche il pane. Nuovo blitz degli Stati Uniti. Uccisi altri kamikaze. Volevano colpire l'aeroporto. Francia e Inghilterra presentano una proposta congiunta al Consiglio di Sicurezza ONU per istituire i corridoi umanitari in Afghanistan oltre il 31 agosto. E Kandahar arriva ai Batullah, il leader dei talebani. La lettera invece della studentessa. Qui c'è soltanto morte. Ciao, sono una degli studenti della Sapienza rimasti bloccati a Kabul. Riporta Repubblica in primo piano. Con l'arrivo del gruppo terroristico talebano a Kabul, la nostra giornata luminosa è diventata pura oscurità. Non avevamo speranze per il futuro con le mie amiche. Cercavamo una soluzione. Il commento affidato a Ginori. Così Macron torna leader nel farsi carico di una responsabilità morale dell'Occidente. Così l'ha definita nei confronti di migliaia di afghani che inventari di guerra hanno aiutato diplomatici e truppe NATO. Macron lavora insieme al Regno Unito per la creazione di una safe zone a Kabul. La proposta sarà portata oggi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU con l'obiettivo di consentire il proseguimento delle operazioni umanitarie sul posto e l'uscita di persone in pericolo dopo la fatidica data del 31 agosto. Cina e Russia potrebbero non opporre il loro veto alla risoluzione a meno di non voler sembrare oggettivamente complici di eventuali ecidi e massacri del nuovo regime. L'editoriale invece ha affidato a Ezio Mauro le democrazie nell'interregno tra il non più e il non ancora. Gran parte dello smarrimento che ci sovrasta nel dopo Kabul deriva dalla percezione di un passaggio d'epoca dove è ben chiaro ciò che si sta esaurendo mentre restano indefiniti i contorni di ciò che sta per iniziare. La novità è il nostro ruolo, il nostro destino nella transizione. Non solo non siamo più i registi della trasformazione che eravamo abituati a gestire nei tempi e nei modi dettati dalle nostre convenienze. Ma entriamo nel cambio di stagione come in uno spazio conteso. Abbiamo capito confusamente che non siamo i padroni esclusivi della storia e soprattutto che non siamo gli unici abilitati a scriverla. E la fotonotizia al centro pagina dell'incendio appunto a Milano. Paura a Milano, brucia il palazzo VIP di 15 piani. L'incendio del palazzo nella periferia sud di Milano. I residenti accusano doveva essere a prova di fuoco. E di spalla ancora vedete l'intervento di Mattarella. No all'ipocrisia sui profughi. 5 miliardi per recuperare chi perde il lavoro. E infine Papa Francesco raccoglie sempre più fiducia. Andiamo avanti con invece i titoli della stampa. Il quotidiano di Torino. Mattarella, il dovere dell'accoglienza. Da ventotene e schiaffo del presidente all'Europa. Sconcertante sentire parlare di solidarietà senza aiuto agli afghani. Paura a Kabul. Un drone americano fa saltare un'autobomba. Nove vittime. Tra di loro sei bambini. A cinque mesi dal gong del suo mandato, Sergio Mattarella sfodera una franchezza di giudizio che non si era mai consentito. E da ventotene dove 80 anni fa venne concepito il manifesto di Ernesto Rossi Altiero Spinelli espone un'idea di Europa dai contorni netti, quasi spigolosi. Sicuramente poco gradita ai cultori delle glorie nazionali. L'idea è che al passato non si tornerà mai più. L'integrazione sarà irreversibile. E sempre il titolo in primo piano La guerra è perenne così l'ONU non serve. L'intervento di Domenico Quirico. Ancora la sfida del G20. Il paese non può scivolare nel caos di Stefano. Stefanini e Provenzano. Basta destra estremista. L'intervista a Peppe Provenzano. Vice segretario PD. Attacca la destra di Salvini. Melone si appella al mondo. Leghista Giorgetti e Zaia. Prendano le distanze dalla destra. Estremista. Al centro della pagina invece la foto notizia il clochard dell'orso di Peluche sotto i portici di Torino e la foto di Daniele Solavagione l'agenzia Reporters scatata a Torino in corso Vinzaglio pochi metri dalla questura. C'è un film poco riuscito di Lars von Treyer che si intitola Le 5 variazioni. Un esercizio di stile in cui von Treyer chiede al regista e amico Lett di rifare il suo cortometraggio Il perfetto essere umano. L'immagine più famosa è quella in cui Letting Smoking è seduto davanti a una tavola apparecchiata. Alle spalle ha un pannello di plexiglass che lo separa dal mondo e il mondo è una strada di Bombay. Ancora di spalla ai titoli della stampa Terrori a Milano Fuoco Grattacielo salve tutte le famiglie era il palazzo di Mahmood poi ancora l'emergenza Covid test salivari agli studenti Piemonte a rischio giallo la Sicilia come sapete la prima regione a tingersi di giallo da oggi in altre cinque regioni i dati sono comunque preoccupanti Calabria-Campagna Molise-Basilicata provincia di Bolzano e anche Piemonte secondo il matematico Sebastiani a scuola test salivari a campione ogni 15 giorni per gli studenti e invece una app per il Green Pass del personale e l'intervento di Eugenia Tognotti se ancora si discute l'origine del virus la mobilitazione dell'intelligence USA annunciata con molto clamore non ha svelato il mistero che cosa sappiamo ora come ora delle origini del virus SARS-CoV-2 che ha causato la più grave pandemia dell'ultimo secolo c'è di che essere sconfortati dal ritardo con cui procedono le indagini e infine in titolo basso appunto della stampa Veniera 70 anni sono libera di pettinarmi come mi va Mara Venier replica duramente a due signore che nel giro di poche ore le hanno intimato di tagliarsi i capelli in quanto vecchie di mettersi a dieta sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose dice la Venier donne infelici perché è l'infelicità che porta ad essere così rancorosi e andiamo avanti guardiamo il sole 24 ore il quotidiano economico di Confindustria l'apertura previdenza prevenzioni in anticipo ultime chiamate prima della riforma cosa fare entro fine anno post quota 100 dal 2022 rilancio rafforzato di ape sociale opzione donna e contratti di espansione Catasso batte prezzi tasse al top in 10 città il valore delle case da Pordenone a Taranto imponibili più alti dove la rendita supera il mercato l'incrocio tra rendite e catastali i valori di mercato post covid alleggerisce o appesantisce il carico fiscale effettivo dell'Imo nei capoluoghi a Pordenone e in altre 9 città da Taranto ad Alessandria a Padova il prezzo medio di mercato è già oggi inferiore al valore catastale situazione opposta invece a Imperia dove l'imponibile fiscale è più distante dalle quotazioni stesso discorso a Milano e Venezia che risultano perciò leggermente avvantaggiate il raffronto tra catasto e mercato restituisce l'immagine delle sperequazioni tra una città e l'altra un tema tornato ad attualità dopo che l'atto di indirizzo 2021-2023 del Ministero dell'Economia ha indicato l'obiettivo dell'aggiornamento delle banche dati immobiliari ma il catasto al momento resta fuori dalla giornata della riforma fiscale a maggior ragione dopo che le commissioni finanze di Camera e Senato hanno volutamente messo in riferimento alla revisione degli estimi nelle proprie conclusioni approvate lo scorso giugno in vista del disegno di legge delega atteso per le prossime settimane è un interessante approfondimento sulla cultura dell'Italia cultura Italia a due velocità l'Italia torna nei musei non al cinema la cultura si è rimessa in moto in particolare museo e siti archeologici hanno ripreso ad essere visitati come dicono i dati del trimestre maggio luglio più confortanti più del doppio di presenze di quelli dello stesso periodo dell'anno scorso anche se ancora distanti dalla normalità pre-covid è però una ripresa a due velocità perché invece spettacoli dal vivo e cinema sono ripartiti con meno vigore e andiamo avanti con il messaggero i titoli del quotidiano del capitale l'apertura dedicata al covid un bollettino per i non vaccinati il piano del ministero della salute saranno chiari i rischi per chi non si immunizza green pass obbligatorio l'ordinanza da mercoledì più corse e capienza su treni e aerei in arrivo una novità bollettino a parte per i non vaccinati così rischi più chiari il ministero della salute scoraggiamo le fake news e facciamo capire i pericoli per chi rifiuta da mercoledì scatta l'obbligo di green pass nei trasporti capienza al 100% su aerei e treni di italo l'80% sugli altri mezzi balli illegali in tutta italia la proposta del lazio riaprire le discoteche l'assessore d'amato usiamo il qr code e nel labirinto delle regole scuola in caso di positività in classe quattro diversi tipi di quarantena la didattica a distanza e modalità mista che arriva anche nelle scuole medie e così gli istituti si preparano a tornare in presenza studiando tutte le diverse possibilità di procedure nel caso in cui ci dovesse essere una persona positiva all'interno della scuola e al nodo anticorpi invece dedicato il fondo del messaggero il tempo giusto per distribuire la terza dose nell'estate scorsa in Italia il covid pareva quasi sconfitto Conte faceva il pavone il ministro Speranza scriveva il suo libro autocelebrativo perché guariremo Zangrillo assicurava che il virus era clinicamente morto si è visto poi appena riaperte le scuole che quella estiva era stata solo una tregua e il virus era tutt'altro che morto e oggi oggi le cose sono profondamente cambiate non solo in Italia la variante delta due tre volte più contagiosa del virus originario ha reso la lotta alla pandemia molto più difficile nello stesso tempo fortunatamente la campagna di vaccinazione l'ha resa più facile ma qual è il saldo finale si pone la domanda sfortunatamente negativo nella maggior parte dei paesi la variante delta si rivela più forte del vaccino non già nel senso che il vaccino non funzioni contro di essa ma nel senso che non basta è un timore che avevo espresso diversi mesi fa ma oggi quel timore è diventato purtroppo certezza a dispetto del vaccino i contagi le ospedalizzazioni e i decessi di quest'estate sono maggiori di quelli dell'estate scorsa non solo in Italia ma nella maggior parte delle società avanzate con poche eccezioni in breve ci apprestiamo ad archiviare le vacanze estive in condizioni peggiori di quelle dell'anno scorso come è stata possibile la domanda del giornalista Luca Ricolfi Kabul l'Isis che cerca altri morti drone usa ferma un'autobomba l'apertura dei talebani per i vogli umaritari oltre il 31 agosto raid americano su un'auto uccisi due kamikaze preparavano un attentato Kabul nuova azione degli Stati Uniti con un drone contro l'Isis K volevano attaccare l'aeroporto secondo alcuni testimoni citati dalla CNN il blitz avrebbe causato anche nove morti tra cui sei bambini funziona la morsa di Stati Uniti e talebani sull'Isis gli 007 collaborano e c'è l'apertura sui voli dopo il 31 di agosto i paesi nato e l'Unione Europea il governo garantisce che le partenze saranno ancora possibili e ancora il richiamo di Mattarella sconcertante in Europa chi nega l'accoglienza ai profughi studenti bloccati fateci venire a Roma l'affondo di Mattarella sconcertante in Europa chi nega l'accoglienza nell'anniversario del manifesto di ventotene duro il richiamo del Presidente della Repubblica in visita sull'isola sull'Afghanistan serve una gestione comune dell'Unione Europea non è un tema da campagna elettorale il Quirinale chiede che l'Unione Europea si doti di strumenti di politica estera e di difesa efficaci e andiamo a vedere i titoli del mattino profughi Unione Europea sconcertante Afghanistan il duro richiamo di Mattarella solidarietà a parole nulla sull'accoglienza drone degli Stati Uniti colpisce un'auto con due kamikaze preparavano un attentato il G20 in salita il fondo invece è dedicato al recovery il premio ripartiti il peso di Draghi dopo Kabul l'agenda pubblica del governo nelle prossime settimane uscilerà tra due temi la partita internazionale in Afghanistan e il calendario di permessi e chiusure che scaldirà il ritorno a scuola nove aperture di giornale su dieci riguarderanno questi scenari un anno fa la pandemia faceva il pieno della nostra attenzione oggi ci siamo bruscamente risvegliati alla tragica realtà della guerra non dei vaccini ma delle bombe però dietro la cortina mediatica di informazioni su questi due fronti si prenderanno altre decisioni non meno anzi forse più importanti per il futuro del paese decisioni di cui si parlerà poco e spesso in modo riservato siamo entrati nei mesi cruciali su come spendere i soldi del recovery la fase in cui gli addetti ai lavori si mettono d'accordo sui dettagli che regolamenteranno tempi procedure soprattutto i destinatari finali dei più ingenti flussi finanziari mai impegnati da un governo italiano in altri tempi sarebbe stato questo il momento in cui si sarebbe raggiunto il massimo dei contrasti tra i partiti e queste più o meno comprensibili di atribi e contraposizioni avrebbero monopolizzato l'agenda parlamentare e dei telegiornali e andiamo avanti con la notizia dedicata al covid taglio basso per il mattino covid il doppio bollettino a parte i positivi novax stop quarantena tornano gli inglesi a sorrento cambiano i criteri per l'aggiornamento del bollettino dei contagi conterà anche il numero dei positivi senza vaccinazione l'obiettivo è chiaro sensibilizzare attraverso i dati sulla necessità di immunizzarsi contro il covid l'unico ostacolo al varo del doppio bollettino sono le regioni alcune come Campania Sicilia e Veneto già monitorano separatamente i dati altre lo faranno da settembre intanto a Sorrento si tira un sospiro di sollievo attesi i turisti britannici dopo lo stop alla quarantena obbligatoria di 5 giorni poi la notizia di cronaca della uccisione della promessa del pugilato Gennaro il talento del pugilato ucciso nella Movida Caserta ha fermato l'aggressore del 18enne l'allenatore poteva diventare un campione aveva compiuto 18 anni solo 10 giorni fa Gennaro Leone l'altra notte a Caserta è stato ammazzato pugile della categoria medio massimi una carriera nazionale youth già avviata Gennaro Pari si è intervenuto per difendere un amico che ha sferrato la coltellata mortale è un ragazzo di Caivano di 6 mesi più grande è stato fermato alcune ore dopo il dolore dell'allenatore Gennaro era un coraggioso e concludiamo con l'altra voce dell'Italia il quotidiano del sud e l'altra voce dei ventenni la leadership internazionale di Draghi vale molto per la nostra economia se non pensi in grande vieni travolto leggiamo qualche passaggio dell'editoriale del direttore Roberto Napoletano la sfida del G20 allargato è quella di ricondurre tutti a una responsabilità comune dai talebani all'Europa e all'America il mondo deve riuscire a disinnescare la nuova minaccia del terrorismo la destabilizzazione con i suoi effetti a catena che incidono sulle materie prime e i loro prezzi come sulla quantità e qualità dei mercati di sbocco incide in modo diretto e pesante sul nostro prodotto interno lordo e rappresenta il vero vincolo esterno alla nostra ripresa dimostriamo di saper occuparci di cose serie facciamolo almeno per i nostri figli e poi come vedete il richiamo anche qui con la questione covid corsa contro il tempo per il ritorno a scuola in presenza prosegue il lavoro del ministero dell'istruzione per arrivare all'appuntamento con la riapertura in presenza delle scuole nelle migliori condizioni possibili spallata della dad al mercato degli affitti per i fuori sede e con questo è tutto grazie per averci seguito grazie per l'attenzione prestata mi vi do appuntamento a domani con la rassegna stampa e la linea ora alla rete per la consueta programmazione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti